Protagonista di Uomini e Donne, ormai famosissima per le sue storie d'amore, purtroppo quasi sempre finite, parliamo della parrucchiera di Brescia, ma di origini siciliane, Ida Platano. Sembra che stavolta la sua storia d'amore con Alessandro, un dolce salernitano di 39 anni, prosegue a gonfie vele e, finalmente, sembra che siano delle bellissime vele d'amore. I due innamorati si vedono dappertutto e anche nella trasmissione Uomini e Donne, sempre mano nella mano e innamoratissimi. Intanto il suo ex Riccardo si è buttato su tutte le donne del partner, femminili di Uomini e Donne, ma ovviamente, conoscendolo per il suo pessimo carattere guarnieri, pochissime dame hanno accettato la sua attenzione. Questo suo modo di fare di Riccardo è sicuramente per dimenticare la sua amata, Ida, l'unica donna che ha amato, ma si è fatto scappare non mettendolo la fede al dito. Ispettore Gossip augura ai due innamorati un meraviglioso cammino assieme. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!